Spettacoli di danza, incontri culturali e presentazioni di libri. Sarà tutto questo la quarta edizione del Performare Festival che si svolgerà a Serra di Falco in due sessioni. La prima dal 27 al 30 luglio con spettacoli di danza e la seconda dal 21 al 28 agosto sempre con spettacoli di danza e eventi culturali di vario genere, molti dei quali pensati anche per i bambini che si svolgeranno nei luoghi simbolo di Serra di Falco, quali il teatro e la villa comunale, la piazza centrale conosciuta come il quadrato, la testa dell'acqua e anche i campi da tennis. Ospiti internazionali dell'evento i coreografi Peter Iasco e Clara Furi. Il tema, scelto per questa edizione, è Ai confini dell'immaginazione, un percorso di sperimentazione e confronto tra artisti voluto dalla direzione artistica che fa capo a Simona Miraglia e Amalia Borsellino del collettivo Sicily Made. I bambini saranno coinvolti nella visione di spettacoli dal vivo e nel laboratorio di creazione Parata Fantastica, progetto che nasce nell'ambito di territori del Gesto 2022 del Centro Nazionale di Produzione della Danza Virgilio Sieni. Il percorso fa parte della sezione Performance Project del Festival e sarà curato da Delfina Stella e terminerà con una creazione coreografica collettiva che verrà presentata alla villa comunale di Serra di Falco. Sempre nella sezione Performare Project, il laboratorio Narrazioni Dinamiche a cura di Gino Bellomo guiderà i ragazzi in un percorso volto ad esplorare le diverse modalità di scrittura critica.